perchè la faccia cosi? perchè il capitan cile è figo e questo è capitan cile? capitan cile ah è figo capitano america proprio vai indietro figa buongiorno a tutti mi nomi è te benvenuti a questa sfida su minecraft 1.9 skywars in compagnia della skibla saresti tu ah è vero perchè mi ero dimenticato benvenuti in questa sfida in cui giocheremo con uno giocherà con la tastiera che sarebbe il buon skibla quindi il tasto v a s d mentre io giocherò con il cursore c'ho il mouse e dovrò attaccare sarà tutto difficilissimo però ce la faremo perchè è in 1.9 e io sono esperto in 1.9 io non sono esperto quindi perderemo perderemo ok ragazzi devo dire che non gioca minecraft da qualcosa come 3 mesi e quindi non è proprio al massimo iniziare con una sfida ma ce la metterò tutte i limitati skywarsiane che perchè lo stesso si lui è il pro degli skywars oh un secondo inizia tac ok ok allora dimmi mettami dovevo andare questo questo no questo via questo prendiamo questo un po' di roba allora ci serve tutto il giusto e buono per vincere ma che schermo ci sono con tutte queste cesti? va bene va bene questo scendi giù bravissimo scendi giù sacco di schifo allora prendiamo questo e questo cos'è quello un cuore? no me l'adoro no è una barba a bietola si hanno messo le barbe a bietola sorpresa mi sono persi un sacco di roba cos'altro? inventare inventare clicca e clicca e clicca e allora la canna da pesca non l'hai preso ma chissà frega la canna da pesca ma è utile bellezza ragazzi non so giocare a minecraft allora abbiamo dei problemi qui buttalo buttalo andiamo sali allora ci serve tutto il giusto e buono per andare da un'altra parte no fermo io ci ho beccato con un uovo devi prendere la canna fidati le canne servono a vincere no cosa stai dicendo dobbiamo attraversare e andare verso il centro zio pedro e allora mi metti in scelta ok ok guarda che c'è quello la con l'uovo che ci ammazza fai la barriera no non ci fa la barriera non si fa noi ce la faremo senza mamma mia che squadra guarda che forte mamma mia stiamo andando al centro come è possibile fermati fermati osserviamo osserviamo ok continuiamo continuiamo oh mio dio è difficilissimo sembro un idiota senza un braccio aiutati ma che dà un fastidio giocare solo con il sinistro a destra devo occuparla a far altro nooo ok ok fermo 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 sei pronto a girarti tra 3 2 1 ok ah ma si prende danno è ovvio che si prende danno volevi non prendere danno ok abbiamo le frecce perfetto le uova le uova l'uovo le uova le uova mi sento troppo ignorante ragazzi questo cammino di vino questo 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 e mela d'oro dai allora mangiamo una mela d'oro nel frattempo risaliamo saliamo 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 perchè quella roba che hanno aggiunto a destra è così per vedere le varie stats che abbiamo se prendiamo cose strane potenze oh questo questo è potente sharpness 1.61 cosa no è più forte la nostra e allora prendiamo le frecce via il ciclo la canna adesso clicca f per favore ok perfetto cos'è sta roba andiamo andiamo cos'è aspetta il piccone piccone clicca inventario clicca inventario ok vai andiamo avanti cos'è la f è la doppia mano e serviva per essere forte aspetta ci servono in lapislazuli qua e su un f puoi mettere quello che vuoi puoi mettere quello che vuoi non lo so ci servono in lapislazuli porca miseriaccia e clicca per favore e così toglie l'inventario figa stai in mezzo porca miseria cosa che devo fare dai il mio cappellino datemi il cappellino dov'è il cappellino vai più avanti ok e questo tac mamma mia che provata lapislazuli no questo è fortissimo dai tengo a shift tac 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 ok via via gira gira a sinistra a destra a sinistra più sinistra ok puoi mettere per favore inventario così metto la set split ok via questo mettiamo questo vai mamma mia fuldiamo quasi fuldiamo madapacca stai letteralmente sudando non abbiamo ancora acceso nessuno saliamo saliamo fermo 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 lapislazuli tac 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 prendi l'enchantment l'enchantment ok ok allora oh aspetta con l'arco con l'arco no fermo allora aspetta aspetta cambiamo fermo inventario 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 allora è questo puoi star fermo ah c'era allora incantiamoci è pronto è pronto andiamo a combattere allora ti ricordo che nella 1.9 nella 1.9 è più difficile tutto cioè non puoi attaccare subito tante volte tipo chitter click diciamo ma devi attaccare dopo 8 secondi ogni attacco cioè un secondino qualcosa cioè adesso te lo faccio vedere perché c'è un tempo di ricarica la spada veloce 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 madonna terribile lezzo no è andato giù è andato giù è andato giù fermo 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 ma fai schifo neanche una volta l'hai preso con la lava dove mettergli vai vai combatti 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 fermo combatti combatti dov'è con la spada vai con la spada siamo troppo lontani per la spada aspetta aspetta fammi salire fermo fermo ok sali 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 prendi le frecce pepi fermo i blocchi sali i blocchi sali oh mio dio è difficile questa cosa non so come abbiamo fatto vai vai con la spada con la spada no la lava zio pedro fermo 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 me la doro fermo immobile shift sei bene dove sei infame schifolo vai 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 vedo pedinalo, pedinalo vai 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 perfetto si, c'è la tempo in ricarica ok l'abbiamo colpito l'abbiamo colpito l'abbiamo colpito ucciso mamma mia salta 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 capogiro fermo c'è qualcuno parto con la lava ora metti la lava no no è troppo lontano non ci arriva cos'è in mano ha uno scudo devo scendere metti la lava è troppo lontano ok 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 fuoco fuoco se ne sta andando fermo fermo prendi la lava è troppo lontano dobbiamo risalire vai salta 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 non possiamo ci sono le slab ma porco cane dai ma che cazzo si è bloccati ma perchè marco schiblarti no non andar di lì vai nell'altro buco no madonna santa santa gesù aspetta vai 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 con la spada con la spada oh via ok 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 fermo fermo preso preso aspetta ha messo lo scudo ok l'abbiamo preso aspetta c'è qualcun altro risaliamo saliamo 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 con lo scudo non puoi parare le frecce a volte si certo fermo porca eva oddio sta bruciando tutto fuggi 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 c'è troppa gente la sotto aspetta shiftati sali 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 aspetta fermo fermo dove sta no no chiè che schiaccia shift ah perchè sei tu con la freccia madonna freccia mamma mia che schifo dai 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 Volevi servono le mele d'oro, dove cazzo sono le mele d'oro? non abbia..WAH FERMO LA LAVA LA LAVA LA LAVA sali sali fermo 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 Aia che male Arriviamo a 250 like per una prossima sfida challenge Doppio mouse schermo tastiera banana Ci vediamo al prossimo video sul canale Mi raccomando salutiamo la Skibla Iscrivetevi al canale che è sotto in descrizione Insieme a tutti i link utili dei social E tante altre belle robe Ci vediamo al prossimo video alle ore 18 circa Su questo canale Ciao da te